Bella lì ragazzi, qui è Luke Van Allen e quest'oggi siamo tornati su 4Story Sì, ho notato che ho avuto parecchie visualizzazioni, anzi più visualizzazioni su quel video che in qualsiasi altro video nel mio fottutissimo canale E non so perchè Quest'oggi siamo qui con Don Rick, il mio vicino di casa Ciao E faremo un video, andremo fino a... Com'è che si chiamava? Mosalien, no Mosalien, Gebra, Gebra, sì, giusto? Che Gebra? Gebra Blonea Blonea, eh sì, giusto, Blonea E andremo al grande cartere, quello me lo ricordo A ammazzare una sorta di Tyrannosaurus Rex, che cavolo è? Boh, una lucertola Una lucertola gigante, l'uomo lucertola dovrebbe chiamarsi una cosa del genere Sì Mi sembra Vabbè, andiamo È una sorta di Godzilla, tipo Sì Un rettiliano Come direbbe Montesi, un rettiliano Ok, allora Andiamo verso Ezed No, Ardier, giusto? E dopo andiamo verso Ezed Sì, stavo cercando Ezed Anche io stavo cercando Ezed Cioè Abituati a Valo Eh sì Che parte bisogna andare, oddio Cioè io ho tipo Il cavallo che è metà di me, ormai Cioè il feline Un feline in sella è un cavallo Con lo spadone che gli trancia le gambe Ma tu hai la sella? No Ma neanche io Meglio, meglio Guarda la spada, Ricky Guarda le mie spade sui cavallo Cioè gli sto tracciando una zamba, tipo Una chiappa Esatto Dai, ti supero Butta sto nonzo Eh perché fuori di più Tanto corri lo stesso Quanto hai? 150 o 120? Quant'è? Non lo so, aspetta che guardo Scusa, io ho effetto più 50 Tu? Io ho 40 più Ah, ma hai 3 di 3 te? Eh sì Ah, io ho 2 di 3 Eh vabbè, sborone Vai cavallo Scusa, perché devo stare io a cliccare avanti? Quello faccia lui No, aspetta, aspetta Attenzione ai dettagli del paesaggio ragazzi Aspetta, stai fermo Luca, stai fermo Sì Vai, parti Hai fatto 6, we bastard Non vuoi fare fatica, cioè Della serie Ragazzi qui probabilmente la gran attimo A me no, a me no Attenzione Oh no, adesso sì, adesso è la gatta Ho parlato presto Perché quando si cambia di regione ragazzi Lagga sempre Se voi siete pratici di 4Story Capirete Oddio, mi lagga di nuovo Ah no, si è bloccata Si è bloccata Ho visto che ti sei tipo sotterrato Ah ma è Non sei nel canale 1 qua No, eh no, sono nel canale 2 Aspettami Eh, sì sì, intanto vado No, quindi Attenzione un dettaglio delle cascate di Kokuma Prenotate anche voi una vacanza dei casta Eh, castate Le cascate di Kokuma Prezzo d'ordinanza 200 euro Solamente Solamente perché il paesaggio è a quanto cupo Non si può Non ci si può abbronzare, capito? Vabbè, oh Infatti c'è andato Riccardo Ma ha preso un'inculata pazzesca Sì Eh Che bel ponticello Sì, va bene, va bene Molto stiloso, molto stiloso Comunque A parer mio Valorian è più figa C'è poco da fare Ci siamo stati anche di meno però, eh Abbiamo sempre detto che è più figa Ma ci siamo stati la metà del tempo Eh, perché tu vuoi tornare a Dario No Tu non mi devi seguire Io sono tornato a Dario 50 volte E anche a Valo Ups Gambali del veterano Per pet, arcele, viola o tempesta Interessante E tu che pantaloni hai? Io ho dei Calzoni del dominatore più 18 Eh beh, prenditi i veterani No, no, no Vabbè, i veterani Voglio fare 6 e 7 Arcele, cavaliere, evocatore Vabbè, il petto non lo è Eh Lo so, lo so Cos'è che ti manca? Mi manca petto, elmo e stivale Ma l'elmo non avevi la maschera della bestia? Eh, avevo Ah sì, ok, l'hai notta via Oh, guarda quello con l'elmo del dominatore Elmo del cavaliere magico Un oro chi più Due Ventimila Ventordici Non ce li ho due ore io, eh Ho 30 argenti E attenzione ragazzi Perché Don Rick è l'unico uomo sulla terra Capace di spendere 20-25 ore di raffinamento Fallendo Perché Cioè, veramente No, ma mi veniva sempre fuori Non è stato possibile Raffinare l'item E io sono l'unico uomo sulla terra Che ha il coraggio Eh Coraggio O almeno la sfortuna Di uppare una cosa senza volerlo Eh, no Tu sei l'unico stronzo Che spende 70 ori per un anello Eh sì, è vero Anche quello Coglione Sì, alla fine quell'anello L'ho dato io per un set intero Fa un po' tè Fottuto stronzo Quanto dava? Dava tipo una cosa come quasi Quattro No, dava 400 di vita E che Per chi era? Eh, era per il guerriero Ricordi, 8 di condizione Tipo 7 di forza E poi dava No No, 8 di forza 9 di condizione Mi sembra Ehi, vedi Sulla mappa Aren Quello sopra il cratere A destra Ehm Ma che si chiama? Aren Aren Quello sul ponte Eh Non sono mai andato là Tu? Ah ma c'è tipo Una roba Un tronco là Ah davvero? Sì c'è un tronco Che ci passi dentro Non ci sono mai andato Sì vabbè Non hai niente speciale Un tronchetto del cazzo Beh se vuoi andiamo a vedere No vabbè Dobbiamo andare È un tronchi Sì sì È un tronchi Adesso Attento ai mob Eh sì Dobbiamo fare Dobbiamo fare la tattica ninja E i buff I buff Adesso ci buffiamo Ci fermiamo qua Stai fermo 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 Tu vai a morire Guarda Adesso mi buffo Hai potenziato Benedizione del vento? No Porca puttana Ma cosa vuoi che benedizia? Benediccia? Cosa vuoi che No ho detto Cosa vuoi che benedisco a fare? Ah ok Ho capito benediccia Benediccia No mi ero fermato a benedì A dire il vero Però vabbè Uie Cazzo ma quanti mob ci sono? Parecchi Mille mila mob Allora Qua Ah eccolo qua È qua a sinistra Luca Sì l'ho visto L'ho visto Uomo lucetta Guardate che figo ragazzi Cioè guardate che stiloso Fatti rompere il culo Luca Vai facci È stiloso Sì è la carica Sono scogliatelino Sì che puff Sono puccioso ragazzi Hai comprato le frecce Luca? Oh cazzo Eh sì sì ce le ho Ce le ho Mi sa che ne sprecheremo tante Beh io gli ho già tolto 290 Ah beh anche io 403 Anche 307 dai Ahi no Gli abbiamo tolto 2000 eh Sì eh No per dire No dobbiamo coordinarci Ok l'ho stunnato Attacchi però 796 gli ho tolto con l'attacco più potente Quasi 800 eh Mica poco Io neanche lo tocco No mi ha debuffato sto stronzo No adesso debuffa me Ma devi bisogna che lo stunnia Attento dietro Luca Ok l'ho stunnato No ha missato No non ha tirato niente Eh ha sbuffato Sì ha sbuffato Sbuffa Ecco mi ha debuffato Hola Post Ha ceccato Ma non ha ceccarlo Tato missa Eh devi aspettare cazzo però Tato attacco più potente Carica Sì l'ho preso Anche io l'ho preso Sì ma con la scheda gli tolgo solo 170 Ed è potenziata anche Oddio ma ha tolto 400 Io gli sto levando un bel po' eh Vabbè anch'io ma cazzo mi tolgo Sì ma tu sei un 47 no per dire Sì ma ti ripeto mi manca l'elmo Ah Eh vabbè l'elmo no Nei 1 più 16 irreparabile Vabbè ma cazzo più 18 è una differenza eh Lo so però Meglio di niente Vabbè ma non fa cagare Ragazzi abbiamo già provato a fare un video qua Però abbiamo preferito non metterlo perché Avevo una balestra più 14 Più 11 non ricordo E non gli facevamo niente Eravamo in 3 L'unico che levava un pochettino era Riccardo all'epoca perché Avevo la più 18 di nuovo Eh Adesso Sono tornato Ok Quindi Sì ma cazzo Aspetta ma che fine ha fatto il tridente Chi fine ha fatto chi? Il tridente Il mio tridente Sì il tuo tridente L'ho dato per la bala Ah ok Sì ma è ovvio che tu togli di più cazzo la faccia della balestra Sì eh no non è che tolgo di più eh A dire il vero Oh ma quanto mi ha levato? Non l'ho neanche visto Mi ha levato tanto Oh poca miseria Ok l'ho stunnato Ma non ero neanche accorto che mi avesse tolto così tanto Questo si mangia le unghie Eh esatto Ogni tanto se le mangia Oh l'ho beccato finalmente 400 Urlazzo Urlazzo Via Pam No l'ho missato Lo faccio io lo faccio io lo faccio io lo faccio io Prima che mi ammazzi però Eh meglio No 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 Oddio Oddio Ricchia Poi di vita Puzzati pozzati Pozza 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 Non No no scappare Non scappare Non scappare Sturnamelo Sturnamelo Vai via vai via Oh Sturnalo 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 Eh io provo io Eh ce l'ho fatta ce l'ho fatta ce l'ho fatta Ah bello Io aspetta adesso sturnalo Momento di Crisi Da Crisi epilettica Vai Mori puttana Ma tu dovresti averlo già massacrato Si sai com'è Ho visto i video su internet L'ho messo Sono un po' a un livellino Non so se sei notato I video su internet Su youtube Vengono i 70 A ucciderlo Eh lo so Dettagli Anche i 50 Ma noi ci proviamo lo stesso perché siamo pro Abbi Io Attacco più potente Perché te lo meriti Sei quello che gli ha tolto di più per quello Attaccata Ehi accecati No Adesso l'ammazzo io L'ammazzo io No l'ammazzo io No Si l'ho preso l'ho preso C'è un bastardo 151 di esperienza Eh io 102 di esperienza E quanti soldi? 462 Ok ora andiamo a farci uccidere dei mob Ma vabbè là cosa vuoi che ci faccia Su 67 Carica mori mob di merda Oddio Cazzo Cazzo quanto gli hai tolto? Mi ha tolto Io gli ho tolto un 400 qualcosa Lui mi ha tolto 200 tipo Io 400 A me togli 180 Si ma ci ammazzano con niente i mob Si beh ci mettiamo a sparare qua scusa Si a sto punto Mi sta facendo male Comunque ragazzi Nell'ultimo video Gente che mi scriveva Ma come piazzi le skill Ma come fai a vedere con lo schermo così Cioè ragazzi Oddio no mi sta facendo fuori Oh no dove le sono le puzze Ok Perfetto Ma non sapevo dove avevo messo le puzze Ma ce le ho le puzze Non le hai le puzze Non ho le puzze Non ho le puzze Eh? Dov'è che sai che ti raggiungo? Eh adesso torno là No vabbè ti raggiungo io Aspetta che mi ammazzo No 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 Oh sto tornando eh Ok Eh dai finisci il discorso cazzo Quella resta sempre a me cazzo Si mi di Alcuni di voi mi scrivevano Ma come fai a usare le skill così Ragazzi io mi trovo così Cioè ognuno si trova come Va meglio Cioè sono messi a posto i tasti Perché uno si deve mettere come preferisce Cioè non vedo il motivo di criticare Perché uno se ne mette così E poi si Lo dirò Lo ripeto all'infinito Io non gioco tanto ragazzi E Poi su L'arcele sono veramente brocco Oh porca puttana Tempo fa avevo Eh sto tornando alla Val Cadavra Ah ok io ho la lucerta La che mi segue ma Fai avanti pure Dicevo tempo fa avevo un guerriero E era molto tosto ragazzi La mi trovo veramente bene Ah c'è ancora la lucerta no? Si mi stai seguendo E allora riuscidiamola Troll face È scappata è scappata è scappata Ah ok Aspetta Beh la missione di questo video è finita Cioè Ok Beh Possiamo anche concludere il video Va bene Ok Quindi ragazzi Un saluto da Luke Van Allen E da Undor Rick Ciao 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 ragazzi Alla prossima Bye 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 bye